No, ho bisogno di voi. Mi aiutate? Sì! Ok, come quando cantiamo insieme, facilissimo. Io comincio e voi rispondete. Facilissimo. Mi aiutate? Sì! Ok, sicuri? Sì! Non siete convinti? Sì! Ok, capito come funziona? No! No, facciamo una prova. Tipo, io dico la data di oggi e voi dite la città nella quale ci troviamo. Tipo, 21 maggio! Sì! Però non usci così, ragazzi, di più. Va bene? Abbiamo capito? Carichissimi? Iniziamo? 6 novembre! Sì! 8, 9 novembre! Iniziamo! 12 novembre! Abbola! 14 novembre! Noi siamo! 17 novembre! Veneto! 19 novembre! 22 novembre! 26 novembre! Veneto! Veneto! 28 novembre! Anziane! 8 dicembre! 10 dicembre 15 dicembre 18 dicembre Ecco, questa era una sorpresa Non lo sa nessuno Lo sapete solamente voi Quindi saremo molto bravi da non costare niente E il prossimo dato Quindi dove ci vediamo il 19 novembre? Sì! Grazie 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 Grazie